Ben trovati amici a Casa Rinaldi, altro appuntamento con la musica italiana e oggi la musica estiva per Antonomasia. Abbiamo dei giovani ragazzi emergenti che vi faranno ascoltare una canzone bellissima, estivissima, e una di quelle che, eccoli qua, fantastici, Dynamite36, ciao a Tommaso e ciao a Raffaele. Ciao a tutti. Sì, giovanissimi, allora, siete giovani, siete belli, siete fantastici, adesso ve lo devo dire assolutamente anche perché io stavo ascoltando in loop la vostra canzone che porta il titolo di Ogni Notte, il nuovo singolo di questa band toscana piena di grinta, piena di voglia e di amare soprattutto. Poi parleremo del testo della canzone, intanto vi presento i Dynamite36, una giovanissima band che arriva dalla Toscana. È partita come la grande maggioranza con brani cover di artisti già affermati, il genere si incline alle tendenze pop-rock, e poi c'è stata l'evoluzione musicale che è arrivata, in me che non si dica perché siete giovanissimi, dai 17 ai 21 anni, quindi una band è nata sui banchi di scuola. Tommaso, la voce, il ragazzo con i capelli, con il torace, ecco, a lui, Tommaso praticamente ha messo insieme il gruppo, e subito è venuto fuori il primo singolo. Allora, Tommaso, raccontaci come hai deciso di mettere insieme questi compagni di scuola di avventura in questa avventura chiamata Dynamite36? Allora, diciamo che tutto è partito dalla mia voglia di formare una band già prima di iniziare il liceo musicale dove ci siamo incontrati. E io, quando ho iniziato questa scuola, avevo già in mente di formare una band, era un sogno che avevo, e arrivato là dopo un po' di tempo, ho conosciuto questa gente come Insta, come tutti gli altri, e hanno condiviso il progetto che avevo intenzione di portare avanti, cioè di intraprendere più che altro, e tutti poi abbiamo trovato un nesso fra di noi per fare quello che ci piaceva, e eccoci qua, sta andando benissimo. Beh, beh, guarda, il singolo è davvero una bomba, ragazzi. Perché Dynamite36? Dynamite rappresenta un po' il nostro stile che vogliamo avere sul palco. Sì, ci sentiamo... Esplosivo. Sì, siamo esplosivi. Poi per il genere che facciamo, però sentiamo nostro questo nome. Il 36 sarebbe il 30 giugno, il 30.06 del 2019, è il giorno in cui ci siamo formati al completo. È perché stavo facendo due conti che se la band parte da 17-21 anni, facendo la somma di tutti quanti, 36 è un po' piccola come cifra, quindi ecco qua. È perché io penso sempre. Intanto ricordiamo chi sono i Dynamite36, Raffaele Faralla alle tastiere, il ragazzo che vediamo lì, poi c'è Nicolo Governi al basso, Francesco Bezzini alla chitarra, Nicolo Giomi alla batteria e Tommaso Ninci alla voce. Eccolo, questi gesti proprio da giovanissimi. Tommaso, tu quanti anni hai? Io 19, compiuti a poco. Quindi eri minorenne quando hai avuto tutte queste idee, giovanissimo, un bambino ancora. Sì, avevo 15 anni, sì. Ma ragazzi, allora nel 2021, come? Eravamo tutti minorenni a parte il bassista. Piccolissimi. E i genitori che cosa vi hanno detto ragazzi quando avete testo fare questa idea? Abbiamo avuto la fortuna che hanno approvato subito la nostra idea perché... Ci hanno supportato molto poi in quello che stiamo facendo e tutt'ora ci supportano. Per fortuna anche perché se non ci fosse un supporto dietro. No, sicuramente. Ecco, allora state vicini al telefono perché poi la voce va e viene. Allora, voi avete cominciato subito con il singolo La Ragazza del Campo che era uscito il 26 luglio del 2020 ed era correlato anche da un videoclip girato nelle campagne toscane. Nel 2021, allora, parlateci di questa Ragazza del Campo, intanto. Dico qualcosa, signor Tim. Ah, La Ragazza del Campo è stata un po'... Sicuramente a differenza di Ogni Notte è un brano in cui si vede e si sente e siamo un po' piacerbi e questo è normale. Però è un brano che ci resterà per sempre nel cuore perché è stato il nostro primo modo di esprimerci, la nostra prima canzone che ci abbiamo messo tutti noi stessi pur avendo poca esperienza. E' stato un bellissimo momento, anche se molto faticoso, perché abbiamo fatto una settimana di studio di registrazione, poi subito dopo, perché se no era stagione che tagliavano il grano, siamo andati a fare il videoclip in questo campo di grano che ci hanno prestato, ringraziamo i proprietari. E' andata questa prima avventura. Poi nel 2021 avete partecipato a vari concorsi regionali e nazionali e adesso, in questa estate 2022, arriva Ogni Notte un singolo che racconta a freddo della fine di una storia d'amore estiva. Allora, è un po' un'autobiografia di qualcuno di voi, questa storia d'amore finita? Sì, si può intuire, i testi li scrivo io, sì, è una mia autobiografia questo. E quindi queste chiavi a pezzi, come dici, queste chiavi spezzate, come dici nel testo, che fino hanno fatto? Sì, queste chiavi rotte, diciamo, non sono le chiavi di casa, ma sono le chiavi del cuore, per fare i romanticoni. E sì, è stato un bisogno sia a livello sentimentale per me e sia comunque a livello musicale per tutti noi uscire con un brano nuovo, perché veramente c'era la necessità. E abbiamo unito queste due cose, sia il testo e sia la musica. È venuto fuori un'opera, un lavoro, sia musicale che a livello di videoclip, di cui andiamo fierissimi e siamo davvero contenti che ora ci sentiamo rappresentati in quello che stiamo facendo. Ma veramente è un pezzo bomba, devo dire che io cercherò di spingerlo come posso, perché ovviamente nel mio piccolo cercherò di fare tutto. Radio Italia 5, la radio dove andrà l'intervista, anche la tv dove andrà la vostra immagine, la vostra video intervista, cercherà di mettercela tutta, anche perché Radio Italia 5 è Toscana, di Arezzo. Voi siete toscani, siamo di casa, e quindi cerchiamo di darci manforte. Ogni notte senti la mancanza ancora, Tommaso, oppure stai andando avanti? Ovviamente uno va avanti, però la mancanza sì, c'è sempre, però si riavvicina l'estate, si riavvicina il periodo in cui c'è stata questa storia, e quindi c'è anche un po' di speranza, come conclude la canzone, no? Sì, in effetti, c'è sempre un po', un briciolo di speranza dobbiamo sempre averla, un po' di pensieri, non sempre quelli negativi, ma mettiamoli un pochino da parte. Poi siete giovani, come si dice, morto un papa se ne fa un altro, chiuso una porta si aprirà un portone, e poi tu non puoi capire, ancora Tommaso perché sei troppo giovane, ma l'amore è infinito, se ne può avere, se ne può dare, se ne può ricevere davvero tanto, e poi ogni volta è sempre diverso, quindi voi continuate a scrivere, non vi dico continuate a soffrire, perché poi le sofferenze fanno venire fuori le canzoni più belle, questo è poco ma sicuro. Allora, adesso avete anche altri brani inediti, state lavorando a che cosa? Sì, sì. Abbiamo diversi brani comunque, noi durante la settimana, noi c'è il giorno in cui proviamo, per serate, concerti, eccetera, e invece i giorni in cui ci troviamo e componiamo, quello che abbiamo magari, chi ha composto a casa da solo magari una base, oppure addirittura un pezzo l'abbiamo composto, ci siamo messi lì, ha fatto, ok ragazzi, ora componiamo da zero, proprio, è venuto fuori anche uno dei nostri migliori pezzi, che uscirà molto molto più in là. Molto più avanti. Però comunque, noi non ci fermiamo mai. Ne abbiamo già molti di brani in cantiere. Bravi, bravi ragazzi, così si fa. Allora, mi raccomando una cosa, siete giovani, avete cominciato da poco, da quello che vedo nel video così, da quello che si sente nella canzone, ogni notte, c'è qualche cosa che può essere importante nel prossimo futuro, magari potrete essere i nuovi Poo, con una versione moderna, una versione, io ve lo auguro davvero ragazzi, all'epoca, quando c'era tutta la band dei Poo, Stefano Dorazio, vi racconto, che era il confessore, praticamente tutti quanti andavano a raccontare le loro storie a Stefano Dorazio, che poi lui, queste storie le tramutava in canzoni, che venivano poi musicate da tutta quanta la band. Quindi, cercate di creare un bel gruppo, raccontatevi queste storie, trovate il confessore giusto, e poi noi ci siamo. Dove sarete adesso per quest'estate? Quali progetti avete? Per quest'estate abbiamo già qualche serata in programma, magari le prime sono qua in zona, in Toscana, verso Grosseto, Livorno, e poi sicuramente parteciperemo a qualche altro festival, per farci conoscere un po' di più, anche in varie zone dell'Italia. E niente, poi il progetto principale di quest'estate era promuovere il brano, e infatti lo è tuttora, lo stiamo promuovendo, è uscito da meno di una settimana, ha già fatto buoni risultati, siamo molto orgogliosi, e andiamo avanti a tutto qua. Allora, ricordiamo che da Inamite36 li trovate su tutte le piattaforme digitali, potete creare la vostra colonna sonora, la vostra colonna sonora preferita, inserendo questo ogni notte. Un brano davvero bello, 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 il video altrettanto bello, dove l'avete girato questo video? È stato un po' complicato perché è durato due giorni di registrazione e i luoghi sono quattro. Ah. Il primo giorno, che è la parte dove ero solo io della casa abbandonata, l'abbiamo fatto nelle campagne vicine dove sto io, quindi nel comunismo di Marittima, e poi la sera abbiamo fatto la scena del fuoco a Braccagni, dove sta il videomaker. Ah, intanto un ringraziamento pubblico a Francesco Nisi, il nostro videomaker, che si è presa anche una sassata qua, è rimasta la cicatrice. No, è veramente... Per quanto è bravo, è anche matto. Come serve? Raccontiamo questo aneddoto. Nella scena in cui lancio il sasso nel vetro, lui era dietro, con la telecamera, e io che prima lo lancio e prendo il sasso, e prendo il muro, nemmeno il vetro, a colpo dopo, dritto in fronte. E lui invece, noi si diceva, si porta all'ospedale, diciamo un buo va, e invece lui fa, no, no, andiamo avanti, andiamo avanti, sono più gasato. E il giorno dopo, poi abbiamo fatto la scena con tutta la band sul Monte Labbro a Grosseto, e la scena degli altri ampi, la band al mare, a Baratti. Bene. Bene ragazzi, allora cerchiamo di andare ad applaudire, ad ascoltare la musica del vivo dei Dynamite 36, ogni notte, e su tutte le piattaforme digitali, su tutte le radio, cerchiamo di mandare la musica dei nostri giovani italiani. Ragazzi, vi aspetto per le prossime novità, in bocca al lupo, ciao! Grazie, grazie davvero.